Grande risultato per il Cilento e per le sue eccellenze ai campionati nazionali di cucina Beer & Food Attraction 2020 che si sono svolti alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 febbraio e chi ha visto competere più di 1500 cuochi italiani ed esteri, la competizione divisa nelle categorie cucina calda, cucina fredda e artistica e pasticceria da ristorazione per la categoria junior di cucina calda Main Course, ha visto Manuel Pio Pinto, studente 17enne dell'Ipsar Piranesi di Capaccio Pestum, a giudicarsi la medaglia di bronzo con il tema L'Halibut, incontro il Mediterraneo. Un importante riconoscimento per il ragazzo e l'istituto alberghiero che non fa altro che confermare l'eccellenza del Cilento nell'ambito culinario.